Università dell'Insubria, ma non solo. Anche altre tre realtà del territorio comasco sono destinatari del finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, relativo al bando Interventi Emblematici. Sono 8 milioni quelli stanziati complessivamente per la provincia di Como. Il finanziamento maggiore di 2 milioni e 800 mila euro è stato previsto per il progetto Lario Fiere Make Como Saper Fare, che prevede interventi a Erba, Cabiate, Pianello dell'Ario, Lurago d'Erba, Ponte Lambro, Gravedona, Merone, Lomazzo e Como. È un progetto territoriale che raccoglie molti centri della provincia di Como che hanno avuto una tradizione nella cultura, nella produzione industriale o artigianale e i centri sono i più diversi. Altra destinataria del finanziamento è l'associazione Abilitiamo Autismo Onlus per la cascina Cristina di Cantù con la creazione di un polo multifunzionale per la presa in carico delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico. Il contributo previsto in questo caso è di 1 milione e 950 mila euro, 950 mila da Fondazione Cariplo e un milione dalla Regione Lombardia. Infine 1 milione e 350 mila euro sono destinati al Santuario della Beata Vergine di Ossuccio per la riqualificazione della struttura che sarà dotata di una sala polifunzionale e di una foresteria. Intanto si pensa già al futuro, secondo Enrico Lironi è fondamentale che il comune del capoluogo avvii un dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo economico e sociale per giungere a una presentazione di progetti condivisi in vista del bando di Fondazione Cariplo del 2023. La Ticosa che evoluzione avrà rispetto alla progettazione che c'è? Il San Martino che evoluzione avrà? Il vecchio Sant'Anna che evoluzione avrà? Lo stadio quale evoluzione avrà? Allora diciamo che sono diversi i siti sui quali si può ragionare ma con un'ottica che non è solo della città ma la città in quanto capoluogo e quindi è un faro per un territorio molto più ampio sia per essere attrattiva sia per dare anche delle risposte.